Ciao a tutti ragazzi sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video dove provo a completare tutti quanti gli obiettivi di Minecraft Nello scorso episodio abbiamo ucciso l'Ender Dragon ed è per questo che ho 68 livelli che sono tantissimi Wow! E tu cosa pensi di fare qua vicino a casa mia? E' già esploso una volta e non esploderà un'altra volta Quindi ho ucciso l'Ender Dragon e tutti mi avete detto Kendall ti sei dimenticato di sbloccare l'obiettivo Guarda l'Ender Dragon con il binocolo, dannazione avete ragione Però non vi preoccupate lo devo comunque rievocare un'altra volta per sbloccare un altro avanzamento Quindi quando lo rievocherò allora lo riguarderemo Ma una cosa più importante di tutti ragazzi abbiamo sbloccato la nuova sottosezione The End Quindi dopo aver completato la sezione Minecraft come vedete è completa Cioè tutti gli obiettivi sono dorati quindi li ho finiti tutti Si sblocca la sezione The End e quindi abbiamo tanti nuovi obiettivi da fare Il primo l'abbiamo sbloccato quando siamo entrati nell'End Poi dopo aver ucciso il drago e adesso dobbiamo tenere l'uovo di drago in mano Poi dobbiamo uscire dall'isola dell'End City Poi dobbiamo trovare la città dell'End City Rispawnare il drago E penso anche trovare l'elitra Volare in cielo con l'elitra Tutte queste cose qua Però c'è un problema Quando ho preso l'uovo di drago ovviamente con la mia solita sfortuna che c'ho L'uovo di drago è entrato dentro il portale e quindi non sono riuscito a prenderlo E siccome uno degli obiettivi è trovare l'uovo di drago Dobbiamo tornare alle nostre vecchissime coordinate Oh mio dio Che le ho riguardate in un mio vecchio video ed erano all'incirca tipo 00 più o meno Tipo 160 e altro 100 Quindi devo ritornare indietro nel punto in cui sono spawnato Il che significa che dobbiamo camminare un bel po' verso quella direzione Oppure potrei viaggiare con il Nether E che io non sono bravo a fare queste cose Beh io lo farò alla vecchia maniera Anche perché abbiamo bisogno di alcune cose importantissime Mi avete detto tutti quanti che probabilmente l'ultimo gatto rimasto che devo assolutamente adottare È il gatto nero della strega Infatti c'è un obiettivo che adotta tutti i gatti Sono 11 e io ne ho adottati 10 E non riesco a trovare da nessuna parte l'undicesimo Mi avete detto che probabilmente è il gatto nero della strega Che spunta soltanto lì E quindi dobbiamo anche andare alla ricerca di una swamp Di una palude Per trovare questo gatto nero Sperando che sia lui Così almeno possiamo completare l'avanzamento dei gatti Che per chi non lo sapesse è questo qua Visto? Siamo a 10 su 11 Quindi devo dirigermi più o meno verso 00 Allora le coordinate esatte sono da quella parte Sì Devo andare all'incirca 00 Perché lì dovrebbe esserci l'uovo di drago Che dopo essere entrato nel portale del land Si catapulta nel punto in cui sei nato nel mondo Quindi il punto iniziale E quindi sarà là Sicuramente E lo devo assolutamente ottenere Per sbloccare un avanzamento Se in più riusciamo a trovare anche una bella palude Ben venga Nel frattempo devo anche cercare di ricordarmi Se può servirmi qualcos'altro Allora mi avete spiegato Che per far riprodurre tutti gli animali di Minecraft Devo far riprodurre anche quelli del nether Quindi sia il maialone che lo strider Mi avete detto che si fa praticamente con i funghi del nether Credo Quindi con i funghi quelli blu Non dovrebbe essere troppo complicato Però ne mancano ancora tanti Eh si Ne mancano tanti altri Me la doro Ok la prendo volentieri Ecco la palude Ed ecco la casa della strega Ok Dobbiamo soltanto sperare che ci sia un gattino dentro E come ben sapete Perché ve l'ho già detto nei video tante volte I gatti nella casa della strega Saranno sempre dei gatti neri Quindi il gatto della strega Quindi dobbiamo soltanto sperare che ce ne sia uno Perché non è detto Ma soprattutto dobbiamo fare attenzione A non ucciderlo Mentre uccidiamo la strega Vieni C'è il gatto Oh Sì ho visto il gatto Ho visto la coda Oh È morta con due colpi Allora Il gatto Il gatto non dovrebbe essere despownato Perché non era attaccato alla strega Benissimo Eccolo là Non scappare Non scappare Dove vai Allora C'ho del cibo Ti prego Ce l'ho fatta ragazzi Avevate ragione L'ultimo gatto Da adottare Era il gattino della strega Ok Vediamo Bam 11 su 11 Meno male che ci siete voi a consigliarmi Ragazzi stavo impazzendo Non lo trovavo da nessuna parte Ok Continuiamo verso la nostra strada Alla ricerca dell'uovo di drago Quindi alle vecchissime coordinate In cui sono nato per la prima volta in questo mondo Siamo piuttosto vicini Le coordinate giuste Se non mi ricordo male Erano 100 Di x Poi 60 Di y E tipo Al 320 Una cosa del genere Di z Quindi dovremmo trovarci più o meno Nel punto giusto Adesso ciò che ci servirà sarà Trovare l'uovo Potrebbe essere veramente dappertutto Tecnicamente dovrebbe essere all'interno di questa foresta Perché è lì che sono nato per la prima volta Quindi Oh Non mi ricordo di questo burrone No forse sì Me lo ricordo o non me lo ricordo No non mi ricordo Se devo essere onesto non me lo ricordo Io sono nato all'interno di quella foresta Qua infatti c'è una mia torcia Sì che me lo ricordo Certo mi ricordo di questo fiumiciattolo Qui ho sbloccato alcuni avanzamenti Ho ucciso le mucche Ok me lo ricordo Mi ricordo perfettamente dove ero Quindi sono nato all'incirca qua Da qualche parte Dovrei riuscire a trovare l'uovo adesso In mezzo a questa foresta Oh Eccolo Ok Allora stavolta non me lo faccio scappare Bam Lo devo soltanto prendere E Fatto The next generation Abbiamo sbloccato un altro avanzamento Ovvero quello di tenere l'uovo di drago in mano Fantastico Ok quindi questo l'abbiamo completato Per fare gli altri devo rientrare nel land Ma direi che non è il caso Possiamo fare altri avanzamenti adesso Quale dobbiamo fare allora Questo dobbiamo entrare nel land per farlo Questo dobbiamo uccidere tanti nuovi mostri Eh Ok Eh per questo pure ci vorrà un po' 29 su 34 Chissà quali sono gli ultimi mostri rimasti Allora Lo shulker Lo stray E siamo a 2 Poi cos'altro mi manca Sapete che non lo so Shulker Stray Ci deve essere qualche mostro che non ho mai ucciso L'endermite Vediamo se ho fortuna Magari esce un endermite da questa enderpearl No Ok l'endermite lo devo sicuramente uccidere Quindi siamo a 3 32 su 34 Gli ultimi due non so chi siano Il Wither l'ho già ucciso L'ender dragon l'ho già ucciso Ci deve essere qualche mostro strano I cavalli scheletro fanno per caso parte di questa lista? Perché in quel caso allora mi converrebbe restare qui in questa zona Fin quando non inizia a tuonare Perché non so se lo sapete Però per trovare i cavalli scheletri Conviene trovarsi nella zona in cui si è nati per la prima volta Eh? Perché c'è un cartello qua? Iscrivetevi a Kendall il miglior retuber Dicevo Conviene trovarsi nella zona in cui si è nati per la prima volta E aspettare un temporale Così hai molte più possibilità di trovarli Però non so se fanno parte di questa lista Poi Uccidere due phantom Ok Esplorare tutti i biomi 37 su 42 Porca miseria Per questo ci vorrà una vita Fare riprodurre tutti quanti gli animali Eh Ragazzi L'ultimo che ci resta da poter fare effettivamente È quello di far riprodurre tutti gli animali E alcuni animali Da quello che mi avete detto voi Si trovano nel nether Quindi io devo fare un altro portale del nether Per farli riprodurre Di certo non tornerò a casa adesso Perché ci metterei veramente troppo tempo Quindi mi sa che conviene scendere giù in caverna E creare un portale da zero Tanto il piccolo indiamante ce l'ho Quindi cosa ci vuole? Sfruttiamo questo portale semi rotto Anche questo qua lo possiamo prendere Dovrebbero servirci altri due pezzi di ossidiana E poi dovrei riuscire a creare il portale Giusto? Uno Bam bam L'accendino ce l'ho Ok Fantastico Quindi tecnicamente così dovrei riuscire a far riprodurre Dei nuovi animali Che non sapevo si riproducessero In questo modo Allora Devo far riprodurre gli strider Però mi servono i funghi Blu I funghi blu di certo non li trovo qua Eh no Allora Qua ci abbiamo i funghi rossi Lasciami stare Lasciatemi stare bambini Allora C'ho i funghi rossi Vediamo se vanno Ok Uno e due Bene Si riproducono Cosa esce fuori? Oh mio dio Ok Esce fuori un mostriciattolo Però in questo modo Siamo riusciti ad avanzare negli obiettivi Giusto? 18 su 21 Infatti Aia Ma come ti ho fatto? Ti distruggo eh Non ci metto molto Allora Un altro tra i mostri ostili Che devo assolutamente uccidere È lo Zoglin Ma io non mi ricordo Come si faceva a ottenere lo Zoglin Allora Nella Candy Craft L'avevo ottenuto Ma come? Non me lo ricordo proprio E Adesso ci servono anche Aspetta Lui è un mostro ostile Che mi sa che non l'ho mai ucciso Vediamo 29 su 34 No E invece Questi qua I funghetti blu Mi dovrebbero servire Dove sono? Eccolo qua Dovrebbero servirmi Per far riprodurre gli strider Giusto? Però prima devo trovare due strider vicini Come faccio ad avvicinarli? Non mi buttate giù Non mi buttate giù Giuro ragazzi Che se mi buttano giù Mi arrabbio Allora Fermo 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 Ti voglio dare un funghetto Sta fermo qua un attimo Dov'è? Eccolo Prendi il funghetto Ok Uno Adesso lo devo dare anche a lui O a lei Sperando che non si allontani troppo Per favore Resta qua Non te ne andare Dove vai? Dai Ti faccio conoscere l'amore della tua vita No 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 Più vicino Più vicino Ti prego Non ho altri blocchi Ti prego Sì 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 Ah mi seguono Vieni? Certo è normale Vuole il funghetto E quindi mi segue Bene bene Seguimi ancora Dai Guarda ti porto in un posto bellissimo Vieni 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 Muove No 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 Ce l'ho altri blocchi Non posso utilizzare un blocco di legno Ragazzi va a fuoco se lo uso Dai vieni avvicinati Guarda cosa c'ho Eh lo vuoi lo vuoi Pss Pss Ehi Ok l'ha visto Bene Adesso dovrebbero riprodursi Dai 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 Nasce un piccolo strider Dov'è? Non ci credo ragazzi Non l'avevo mai visto il piccolo strider Ok Quindi adesso 19 su 21 Ha funzionato Ne restano altri due Quali sono gli altri due che devo far riprodurre? Non ne ho la più pallida idea Consigliatemi gli ultimi due animali da far riprodurre Perché sicuramente saranno degli animali strani e molto rari Dal vostro Kendall è tutto E noi ci vediamo domani con un prossimo video Ciao Ciao